Sono stati inaugurati oggi pomeriggio, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, i nuovi locali della sede di Tortona della Croce Rossa italiana. E rappresenta anche il Vescovo Guido Marini, che ha anche benedetto alcuni nuovi mezzi destinati al soccorso delle persone. Ecco, la benedizione che diamo è perché ciascuno di noi, tutti, e in particolare quelli che operano nella Croce Rossa, possano avere l'occhio dell'amore e il vedere dell'amare sempre più intenso, sempre più pronto, sempre più capace di scorgere il bisogno umano che c'è attorno a noi, particolarmente, su questo nostro territorio. I lavori di ristrutturazione sono durati circa un anno e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmi di Tortona si è recuperato il salone delle riunioni e tutto l'edificio non destinato agli uffici, che è stato riconvertito ad attività di formazione. Martedì, infine, nei nuovi locali saranno presentati corsi di formazione per aspiranti volontari di Croce Rossa.